Che razza di vacca allevate? Quali sono le caratteristiche inoltre di questa razza? Allora, noi alleviamo la razza grigio-alpina. Questa razza è una razza di duplice attitudine, latte e carne. Una razza con una taglia media. Le caratteristiche sono la robustezza, la fertilità. Vanno soprattutto molto bene al pascolo, diciamo, durante l'estate. Noi abbiamo tante malghe, buttiamo su in malga. Hanno molto forte le unghie, per quello pascolano molto bene. Fanno una produzione di quasi 50 quintali all'anno. Significa 20-25 kg al giorno. No, no, sono molto tranquille, mangiano abbastanza poco. Possiamo dare 3 kg di mangime su 5 kg. Un po' di pieno, qualche uno gli darò anche un po' di insilata, d'erba, ma il 70% di allevatori nostri ci darò soltanto fino a primo taglio, secondo taglio.